via 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 subito subito 10 senza voler per questo parate perché Dio la robic Porca troia Siamo ucciso il vicino Va bene, andate, andate, andate Vai via l'imposizione Vai, vai, c'è sua Mi trovo qua a prendere Objective generalize Objective is taken I repeat, the objective is taken I repeat, the objective is taken C'è da un kit, vanno C'è da un kit Oh, guarda quanti sono, sono tutti dentro Dentro la sala a sopra C Calma Clavio, su di te, Clavio Tutti qua C'è da un kit Guarda, trovi C'è un kit Poi T'escorso C'è un kit che c'è? che mangi si 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 senta di me ah ok che c'è che c'è? che c'è? che c'è? che c'è? e ragazzi prendiamo anche C siamo tutti io prendo A sono su, è coppa mia sono su A sono rinato lì C C C C C ci c'è? che c'è? che c'è? è il tuo male è il tuo male come on hango object is taken I repeat object is taken turn it to the fuck down object is taken all gone all gone su cini to the fuck no casino su cini to the fuck and many address front, 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 front the main road ok calm stay on charlie stay on charlie on the top floor if you can he is killed on the top floor if you can i can go catch the main road on the top floor if you can go oh my god go 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 andiamo, andiamo, andiamo! Charlie, 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 sono... sono su Charlie so... chiedimi io attenzio, sì ah, cazzo, adesso lo butto fuori ma perché ce l'ha pass? ah, ce l'ha qualcuno fra gli amici eh, io l'ho venuto, non ce l'ho venuto su chi? ce l'ha qualcuno come amico? attenzione su chi, andiamo di sopra attenzione su chi? attenzione su chi? attenzione su chi? ? attenzione su chi? abbiamo perduto l'obiettivo, ripeto, abbiamo perduto l'obiettivo si, guarda, non so quanto riguarda cambiare la terra a destra, la terra a destra dove sono? non so, non so, non so la cioto, la cioto, la cioto la cioto, la cioto la cioto, la cioto perfetto, perfetto chi, obiettivo, salmanno, chi come and get your meds 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 si, l'ha visto, l'ha visto, vero, purtroppo l'hai preso no, no, aspetta no, no, lo so mi like, l'ha visto che in oh no non bello i cacciati lo ah sicuro Calma, calma, calma. No, ci siamo. Non, ci siamo. Non mi aspetta, non mi aspetta. No, ancora? Cazzo, c'è uscito? No, c'è uscito un altro dei nostri, uno di meno. C'è uscito due. Qui sono i tuoi metti! C'è uscito un soldato in enemy, ok? Munizioni, munizioni, bisogna di munizioni, ragazzi. Sono senza, sono senza. Cazzo. Oh, il pistola. Non si può solo raccoglierlo, però? Bene. Sì, sono subito, visto? Ma guarda io che così muoio. Occhio! Ce n'è uno! Munizioni, munizioni, faccio! Munizioni! Munizioni! Infante, munizioni! Munizioni, infante! Non mi sento. Ah, sento di bravo, scusami, non mi sentite. Un altro vuoi allora. Non mi sento. No, no, qua è stato bombato. Guarda. Ah, bandito, Flavio. Ho sbagliato io. Ma il cazzo faccio? Porca troia. Mi ha bisogno di chiedere se c'è qualcuno nel menù o a Bibita. Tipo Zebra o uno degli Admin. Ah, è tanto in controllo qua. No. Sì, sì, vai tranquillo, Lillian. Mi ha bisogno di mettere passione, per favore. Ma che cazzo è questo? Ah, ma questo sì. Che brutto che sei. Sempre comparatemi. Niente, è... Mi ha abbonato a fare due sbagli. Eh. Ah, scusi, il stato. L'ho abbonato io prima. Lasciate fare me. Ci penso di abbonare la gente. Sì, sì, lascia fazione. Cosa. Calma, calma. L'ho abbonato io. Ok, se non esco io il volo, il tolgo il ban Ok, se non c'è, se non c'è Ossia Rabi ragà Va bene, però, concentrati, vinciamo l'ultima, vaffanculo Questo è Vano Flavio, all'entro subito Grazie per la visione